Con parole di benvenuto in perfetto inglese dell'assessore alle politiche giovanili Caterina Delbianco sono stati ricevuti ieri mattina in municipio gli alunni provenienti dalla Svezia, Francia e Germania che insieme ai ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Battisti di Fanno hanno partecipato all'Erasmus Plus. Si tratta di un progetto capace di mettere a confronto culture diverse e di dialogare sviluppando la crescita e la formazione degli studenti coinvolti. Un modo diverso di imparare, molto importante ovviamente per le competenze linguistiche che i ragazzi acquisiscono durante questo scambio, la lingua veicolare è l'inglese però ovviamente hanno la possibilità di comunicare anche in tedesco, in francese principalmente perché i nostri studenti nel nostro istituto studiano anche queste lingue. Poi l'importanza ovviamente di questi scambi europei è il contatto con costumi, civiltà diverse dalla nostra quindi l'integrazione dell'Europa secondo me la si fa dal basso facendo conoscere i ragazzi le realtà dei vari paesi, facendo amicizia con i ragazzi di altri stadi e questa è forse la cosa più importante di tutto il progetto. Il bene dell'acqua è il filo conduttore del progetto europeo il cui obiettivo è quello di raccogliere dati, documenti e altro materiale pertinente al tema in modo da sensibilizzare i ragazzi sull'importanza di questo bene prezioso sia dal punto di vista biologico che culturale. Il progetto tratta dell'acqua, noi inizialmente siamo andati in Francia loro poi sono venuti tutti i tre gruppi qui in Italia e successivamente andremo poi il prossimo anno in Svezia e in Germania. Quindi insomma delle importanti occasioni anche per poter visitare altre città. Sì assolutamente, anche integrare con i ragazzi è un'importantissima esperienza. Dopo una visita guidata alla città di Fano e in particolare al Porto gli studenti delle quattro diverse nazioni sono stati protagonisti di escursioni con meta finale alla Diga del Furlo, alle valli di Comacchio e a Urbino. Ci tenevamo a dare il benvenuto a questo gruppo di ragazzi, è un'immagine bellissima la Concordia che parla tantissime lingue e ci tenevamo a salutarli e abbiamo dato loro del materiale turistico in lingua naturalmente. Ci sono tante persone che hanno collaborato? Sì, nel Battisti abbiamo il professore Aldo Tenedini che è l'idiatore un po' di questo progetto devo dire anche ha inserito un tema molto interessante cioè questi ragazzi si incontrano e viaggiano per parlare del tema dell'acqua quindi oggi ho anche approfittato per dire ai ragazzi la nostra storia e il tema della Fanon Fortune che in realtà era una dea dedicata proprio ai marinai quindi abbiamo incastrato e spiegato anche la nostra storia oggi.